ok è arrivato un oggettino ambito illuminazione in cinque giorni dalla cina non me l'aspettavo assolutamente ve lo faccio vedere boom questo mostro è una ring light da 21 pollici cioè quella che ti fa il cerchio enorme nell'occhio la proviamo subito ma ma porca di quella vabbè le regolazioni dietro questo era il dimmer quindi per farlo più o meno potente questo per regolare la temperatura quindi si può passare anche da un tipo un 4000 k un 6400 k alimentazione e queste due porte non so se sono per alimentarlo con un power bank o se queste poi alimentano magari uno smartphone un cellulare non ne ho idea vediamo subito ragazzi questa c'è da 21 pollici in qualcosa di enorme praticamente su in italia insomma su amazon costerebbe oltre 150 euro io l'ho pagata 58 euro senza il senza il treppiedi perché ne ho 4000 a casa dovrebbe esserci l'alimentatore un bel alimentatore ma questa proprio l'alimentatore grosso questo dovrebbe essere da quanti quanti watt che 1,6 ampere 15 volte 25 ampere ok pensavo più grosso comunque abbastanza importante è arrivato con l'adattatore per la spina perché la spina ovviamente cinese ed ha sorpresissima perché non avevo letto ha anche il telecomando questo si può fare anche a distanza presumo ci siano batterie batterie ok il ministro vabbè quello che possiamo mettere c'è anche il supporto per il telefonino adattatore alla spina molto leggero qui ricordiamoci questa ring light è larga 53 centimetri e qui ha ben tre c'è tre ingressi per appunto metterci lo smartphone o delle luci o un microfono praticamente se volete fare le dirette simultanee quindi magari una su tik tok una su facebook una su instagram tutto insieme praticamente la filettatura quella classica del di tutti i supporti fotografici i treppiede e quant'altro quindi si possono mettere tranquillamente ha già questo questa plastica diciamo tipo softbox per diffondere appunto la luce che non credo sia non si può cambiare no anche perché questa differenza dell'altro che io io della newer ha praticamente il selettore della temperatura quindi non si deve cambiare la cavolo di plastica davanti ma si può fare direttamente da qui è abbastanza leggero a dirvi la verità ed è veramente enorme a vederlo ma veramente enorme cioè questa è la mia mano questo il mio braccio ring light accesa non è potentissima quella potenza minima poi si accende pensavo fosse un po più potente ma mi va più che bene qui si regola qui abbiamo il massimo del del calore qui il massimo del freddo quindi temperatura fredda qui saremmo sui 6.000 5.800 6.000 ok l'effetto è praticamente questo come vedete c'è ragazzi imparagonabile c'è vedete il cerchio che fa negli occhi più grande ovviamente una ring light più il cerchio è definito è spettacolare adesso c'ho anche la mano davanti quindi vedrete una parte leggermente tagliata del cerchio questa da questo lato però c'è assurdo assurdo poi questa è la temperatura regolata in maniera questa luce diurna dovrebbe essere circa 5.000 k cioè a metà del dimmer che è questo ok vediamo se la regoliamo diversamente c'è anche così praticamente le ring light che non mi piacciono moltissimo perché fa cioè fa troppo effetto sbiancante non si vede nessuna ombra non si vede nulla c'è vini cancellato sempre tipo casper però il cerchio negli occhi è veramente bellissimo ok questa è la temperatura più calda possibile non è caldissima al dire il vero non va secondo me non arriva a 4.000 k arriva sui 5.000 quindi una sorta di luce diurna e l'effetto negli occhi è spettacolare spettacolari ma questa è la differenza fra questa che è una newer semi professionale da 18 pollici 48 cm a distanza e questa e costa 118 euro pagata a black friday 78 80 circa questa è quella che mi è appena arrivata magari ci mettiamo la stessa temperatura colore ok questa è da 21 pollici quindi abbiamo 53 cm di distanza di larghezza e l'effetto visivo che fa negli occhi ve lo faccio vedere tra poco cioè questa costa 58 euro ragazzi imbarazzante è arrivata in quattro giorni dalla cina cioè diceva 10 15 giorni arrivati in quattro giorni 58 euro però senza il cavalletto mentre questa completa con il con il cavalletto che ne ho già altri questi sono sempre gli stessi quindi a 10 euro che non costano niente praticamente costa 120 euro circa ed è molto più piccola si vedono i bulbi nonostante ci sia comunque davanti il la copertura il diffusore mentre qui non si vede nulla è tutto molto più graduale piacevole e cioè la differenza è abissale adesso sto usando ok stavo usando la grande angolare guardate che cavolo di distacco c'ha questo è l'effetto del ring light newer da 18 pollici 46 cm di larghezza vi faccio vedere la differenza con quella da 21 pollici ma ma che faccia di me è questa la differenza con la ring light da 21 pollici c'è il cerchio nell'occhio è tutta altra cosa ragazzi tutta altra cosa veramente adesso magari mettiamo un po più giallo che c'è differenza è abissale voi cosa ne pensate perché per me è molto meglio questa c'è da dire che questa ring light la new wear quella da 18 pollici in realtà è molto più potente ma obiettivamente a me tutta questa potenza non mi serve cioè non devi illuminare un campo da calcio e poi chissà che magari non si rivelino alternative ma complementari per avere a primary light e una fill light o viceversa potrebbe essere e tu sei proprio tu clicca qui sotto iscriviti al canale che vediamo in un prossimo video ciao